Possedere una macchina fotografica professionale è veramente un vantaggio? Sono più facili da usare? Una fotocamera più è costosa e più ci permette di lavorare senza preoccuparci di niente che tanto fa tutto la macchina? Oppure è proprio vero il contrario, ovvero che da grandi poteri derivano grandi responsabilità e più la mia fotocamera è progredita e più devo fare fatica per farla performare? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e vi parlo anche oggi di fotografia, materia della quale mi occupo come sapete da tanti anni. In particolare mi arrivano numerose richieste per quanto riguarda Canon EOS 5D Mark IV, una fotocamera che io ho già recensito, di cui ho già pubblicato un video in cui vi faccio vedere come imposto il menu, una macchina che semplicemente adoro. A oggi la mia fotocamera preferita in assoluto di tutte quelle che ho provato è quella che veramente mi ha convinto di più. Eppure questa fotocamera, essendo un corpo full professional, ha anche dei risvolti negativi e uno di questi, che è un risvolto negativo per molti, me compreso, ad altri non fregarà assolutamente niente, uno dei risvolti negativi è un file d'uscita molto ricco di informazioni, e questo significa molto pesante, ma che ha assoluto bisogno di uno sviluppo digitale. Che cosa significa questo? Significa che se con delle fotocamere magari un po' più entry level, magari un pochino più acerbe. Noi possiamo scattare e poi prendere la foto e usarla così com'è. Possiamo scattare magari anche in formato RAW, ma poi possiamo prendere il RAW, esportarlo così com'è e usarlo direttamente, senza preoccuparcene troppo. Questa è una cosa che abbiamo visto su molte fotocamere, per esempio Canon EOS 6D, Canon EOS 7D, sono tutte macchine dove noi possiamo prendere il file RAW, esportarlo senza tanta post-produzione, senza tante storie, e utilizzarlo per tutti gli scopi consentiti dalla legge, senza preoccuparcene troppo. Canon EOS 5D Mark IV è differente, e a cascata devo dire che tanti altri modelli di Canon che sono seguiti sono differenti, perché per esempio io riscontro la stessa identica cosa anche su Canon EOS R. Che cos'è che riscontro? Riscontro un file RAW non pronto per essere esportato. Questo succede perché? Perché si tratta di un corpo professionale e ci si aspetta che un professionista lo faccia lo sviluppo digitale. Quindi nella fattispecie che cosa succede? Quando noi andiamo a scattare in RAW, se lasciamo i parametri flat così come sono, semplicemente la fotografia non è bella, non è pronta per essere utilizzata. Ha assolutamente bisogno dello sviluppo digitale, altrimenti risulta completamente piatta e priva di dettaglio. Un po' come potrebbe succedere anche al file log, al video log che esce da una videocamera comunque abbastanza professionale come quella che sto usando io in questo momento. Se io vi faccio vedere come si vede il file log nel momento in cui esce dalla mia fotocamera, è completamente diverso da quello che vi faccio vedere ogni volta nei miei contenuti, perché è un file grezzo che io poi vado a lavorare. In questo momento il file è grezzo e fa schifo, in questo momento il file ha subito una lavorazione ed è pronto a essere pubblicato. Io non vado certo a pubblicarlo grezzo perché sarebbe orribile come vi ho appena fatto vedere. Succede una cosa molto molto simile anche con le fotografie scattate in formato RAW di Canon EOS 5D Mark IV. Per fortuna io ho messo online già da tempo in memoria ormai un preset che mi sono fatto per me stesso, però l'ho condiviso gratuitamente con tutti voi. Qualcuno mi ha detto che l'ha scaricato e che lo usa qualcuno mi ha detto che non riesce a installarlo. Il motivo di questo video è proprio questo. Oggi vi faccio vedere quali sono i parametri da impostare per ottenere il mio preset. Quindi il preset è in free download, lo trovate qui dentro nell'info box, però se non riuscite a installarlo io in questo video vi faccio vedere i parametri che ho utilizzato per creare questo preset. Così senza bisogno di installarvi il mio preset sarete in grado di mettere esattamente gli stessi parametri all'interno del vostro programma di ritocco e di sviluppo digitale quale che esso sia. Anche se non usate Photoshop, anche se non usate Lightroom dovreste trovare lo stesso questi parametri. Inserite gli stessi valori e avrete esattamente il mio preset. Attenzione, io vi sconsiglio di usare il mio preset così com'è perché io il mio preset l'ho fatto per me, quindi funziona per la mia 5D Mark IV abbinata alle ottiche che utilizzo io e per i soggetti che fotografo io. Quindi io vi invito a provare il mio preset e poi a modificarlo in maniera tale da renderlo vostro, da abbinarlo a quello che state facendo, a quello che state scattando e al look che volete ottenere. È solo un punto di partenza, quindi se siete pigri usatelo così com'è, tanto è in free download io lo regalo. Però io vi consiglio di toccacciarlo un pochino per renderlo un pochettino più vostro. Prima di lanciarci all'interno dell'applicativo vi ricordo che se temi come questo vi piacciono potete rimanere sempre aggiornati cliccando il bottone qui sotto che vi fa iscrivere al mio canale, se attivate anche la campanella non vi perdete le notifiche. Ve lo ricordo ed è molto molto importante perché spesso e volentieri io rispondo ai vostri commenti con degli shorts e quindi se volete essere sicuri di non perderveli questa è la via. Molto bene, eccoci qui all'interno dell'applicativo. Io qui ho già caricato tre immagini scattate appunto con Canon EOS 5D Mark IV. Come potete vedere questa è la seconda foto che ho mai scattato con quella fotocamera, mentre qui siamo intorno alla centesima e qui siamo intorno alla quattrocentesima. Sono immagini a campione che ho preso per farvi vedere questo piccolo test. Nel momento in cui noi importiamo una foto io vado a zoomare sul dettaglio e vedete che sì il dettaglio c'è però non è fenomenale, non è incredibilmente vivido. Andiamo a vedere un'altra immagine, questo qui è un mio buon amico che aveva bisogno lui di questo shooting e non glielo ho chiesto io di mettersi questa maschera e come potete vedere qui dovrebbe essere bene a fuoco, dovrebbe essere molto nitido, invece è abbastanza soft e nonostante stessimo scattando AF8, quindi io l'ho sempre trovata un po' soft il file d'uscita di questa camera. Andiamo sull'ultima foto che vi faccio vedere e questo ormai lo conoscete, questo è Davide Scuteri, il nostro consulente musicale e anche qui vedete che il dettaglio non è eccelso, io se vado a zoomare vedete sì il dettaglio c'è però non è nitido come potremmo desiderarlo, soprattutto se abbiamo gusti simili, a me piace che i dettagli siano vividi. Ora andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui applichiamo questo preset sharpening 5D Mark IV, vedete che cambia qualcosa anche visivamente, nel momento in cui torniamo a zoomare sulla stessa area, io adesso vado a fare un prima e un dopo, io spero che riusciate ad apprezzare le differenze a monitor, ovviamente succedono delle cose anche all'istogramma e questo perché vengono applicati anche questi filtri, qui io gli ho detto di applicare le correzioni del profilo e quindi in questo caso sta applicando le correzioni del profilo che era il 2470 serie L, quindi la maggior parte della differenza che vedete è questo profilo che sta agendo e quindi che sta togliendo un po' di vignettatura, magari equilibrando la distorsione dove presente e giocando un pochettino sui contrasti, però quello che interessa a noi è la nitidezza generale e io direi, spero che riusciate a vederla sulle righine che stanno qui sul frontale dell'obiettivo, questo è un dettaglio dove si dovrebbe riuscire a vedere la differenza, vedete quando io passo dalla mia foto grezza alla mia immagine col preset applicato, vedete che queste righine sono molto più presenti, vedete anche, non so se riuscite a vedere la polvere, diventa tutto un pochino più presente, anche qui la texture qui sul frontale di questa parte, qui è abbastanza assente, invece con il preset applicato diventa abbastanza materica, riusciamo finalmente a renderci conto che c'è qualcosa lì, proseguiamo con la seconda immagine, qui andiamo a fare esattamente la stessa cosa e vedete che nel momento che applichiamo, allora vi faccio vedere le impostazioni come sono prima, detail, allora qui, questa qui è l'impostazione standard, senza toccare niente o presumibilmente senza toccare niente troviamo questa situazione, nel momento in cui io vado ad applicare il mio preset invece i parametri che trovo sono questi, quindi sharpening 88, raggio 1,9, dettaglio 40, masking 25, noise reduction 7, il resto credo di averlo lasciato come era di default, ora se andiamo a vedere sul nostro mascherone e facciamo un prima e un dopo, vedete che anche qui guardate il dettaglio dei capelli, vedete che diventa molto più presente l'immagine, oltre vabbè ad avere qualcosa che viene modificato anche sui colori e questo è come detto, è questo pannello che sta facendo la maggior parte delle modifiche per cui nel momento in cui io vado ad applicare questo preset, questa è una cosa che potete fare tranquillamente anche voi, basta spuntare questa casella use profile corrections e in questo modo lightroom o camera raw vanno automaticamente ad applicare un preset per la lente che ci va a correggere dei difetti della lente o che lui presume essere dei difetti della lente come la distorsione o magari la vignettatura, guardate i capelli, guardate i capelli in questa parte, vedete come così è senza, vedete come è morbido il capello e così è con, vedete che diventa un po' più presente, guardate qui, guardate la texture del cappuccio, così è senza ed è morbida, sembra quasi sfocata, invece così è con e torna a essere bella vivida. Ora io ho cercato, per quanto mi è possibile, di starci cauto perché comunque la sharpening è una cosa su cui non bisogna esagerare, quindi io ho cercato di non metterne troppa, sono tornato un pochettino indietro, sono comunque consapevole che sia tanta, questo preset ne aggiunge tanta di nitidezza, quindi bisogna stare attenti a come lo si usa e soprattutto bisogna gestire la riduzione del rumore in base all'immagine che abbiamo scattato, io qui sto scattando in studio a ISO 100, se abbiamo scattato con degli ISO altissimi in esterna di notte, ovviamente applicando questo preset tiriamo fuori tanto rumore, per cui dovremmo agire sul controllo del rumore per andare a eliminarne un po'. Questa è una cosa importante perché se non lo facciamo poi applichiamo il preset e viene fuori una schifezza. Andiamo sull'ultima immagine, anche qui ovviamente come potete vedere sì l'immagine c'è, va già bene, i colori sono fantastici, l'incarnato di Canon è meraviglioso, però secondo me gli manca qualcosa, quel qualcosa è esattamente questo, vedete la differenza? Ovviamente qui abbiamo anche la vignettatura, questa è la vignettatura della lente che viene rimossa, vedete? Nel momento in cui andiamo a guardare la nostra immagine senza il preset applicato abbiamo un'immagine di un certo tipo, appena applichiamo il preset guardate le sopracciglia, vedete le sopracciglia e i capelli come diventano più materici, anche la texture della carnagione, vedete come cambia una volta che viene applicato il nostro preset. Guardate voglio zoomare tantissimo per farvi vedere, adesso io vado a spegnere soltanto il pannello del dettaglio, vedete che cosa succede? Riuscite ad apprezzarlo anche da youtube, magari state guardando da smartphone e magari non si vede benissimo, però io vi invito a guardare l'attaccatura dei capelli o le sopracciglia, guardate che cosa succede, acceso, spento, vedete come diventa morbido? Di nuovo acceso e bello nitido, di nuovo morbido e spento. Questo è quello che succede quando noi andiamo a scattare con Canon EOS 5D Mark IV e esportiamo la foto senza fare lo sviluppo digitale, questa è una fotocamera che si aspetta lo sviluppo digitale, nel momento in cui noi non lo facciamo l'immagine non è pronta, non è pronta a essere esportata perché non va bene, con una nitidezza come quella nativa non va bene, piuttosto se vogliamo evitarci lo sviluppo digitale scattiamo direttamente in jpeg a quel punto perché è meglio, è l'unica soluzione, altrimenti quando utilizziamo una macchina di questa caratura siamo costretti a fare lo sviluppo digitale perché altrimenti quello che succede, anche qui vedete, vedete che differenza, guardate qui, guardate la texture del berretto, guardate che roba, acceso, spento, acceso, spento, non ci si crede, non ci si crede che questa è l'immagine originale, è brutta, è troppo morbida, così invece, così è come dovrebbe essere, stiamo scattando a f8 quindi qui deve essere a fuoco e questo è il mio preset per farla diventare giusta, altrimenti sarebbe incredibilmente troppo morbida e a mio parere inutilizzabile, ma per nostra fortuna c'è rimedio perché questa è una camera da professionisti e si aspetta di essere tenuta in mano da qualcuno che poi fa lo sviluppo digitale. A questo punto io direi che ci rivediamo in studio per le considerazioni finali. Bene amici che dire, questo è un video probabilmente più breve del solito, non ho sotto mano il minutaggio ma è un video molto semplice in cui vi faccio semplicemente vedere quali sono i parametri da immettere per ottenere questo preset. Io spero che sia d'aiuto a molti, molti me l'hanno richiesto e quindi ho deciso di fare un contenuto seppur breve su questo tema perché secondo me può essere molto utile andare ad analizzare quali sono i parametri in maniera tale che ognuno di voi sia in grado di utilizzare questo preset che io ho trovato imprescindibile, cioè me lo sono fatto e però lo uso ogni singola volta che utilizzo questa fotocamera perché altrimenti come detto i file d'uscita non sono utilizzabili in questo modo, non sono fruibili e tantissime persone mi hanno detto ma come? Mi hai fatto comprare la 5D e i file sono brutti, mi hai fatto comprare la 5D e la 6D era meglio, mi hai fatto comprare questa macchina oppure anche ho comprato, non è sempre colpa mia, ho comprato questa macchina ma i file non mi piacciono, cosa devo fare? Usate questo preset, seguite le istruzioni nel video, scaricatevi il preset se preferite, se sapete installarlo altrimenti mettete i parametri e vedrete che le foto ci sono, stiamo semplicemente lavorando con una fotocamera molto complessa, una fotocamera che crede di avere a che fare con dei professionisti e quindi se noi siamo dei professionisti e sappiamo come trattare l'immagine non c'è problema, se pensiamo di poterla prendere, scattare, pubblicare sui social disinteressandocene completamente abbiamo sbagliato fotocamera. Faccio un piccolo inciso, se il nostro obiettivo è proprio questo, scattare con la 5D e poi buttare direttamente sui social, a questo punto scattiamo in JPEG, in RAW più JPEG meglio ancora, così se dobbiamo modificare qualcosa abbiamo il RAW di salvataggio, però se scattiamo in JPEG bypassiamo questa cosa perché il JPEG è processato e quindi a questo punto noi possiamo andare a processare il JPEG in camera e abbiamo effettivamente un file spendibile sui social senza bisogno di post produzione, però è un peccato, abbiamo pagato tanto per una fotocamera professionale, abbiamo pagato tanto per un corpo come questo ed è un peccato delegare questo procedimento che è quello dove noi possiamo andare a sigillare la nostra fotografia, a mettere la nostra impronta, il nostro stile sulla foto, perché attenzione la fotografia è grezza come detto, una volta che la fotografia è scattata è grezza, è un file grezzo, RAW significa proprio questo, significa non lavorata, quindi è un peccato rinunciare a mettere la nostra firma su una foto mettendo qualcosa di nostro nella post produzione, che possono essere i nostri colori, possono essere un preset per la nitidezza, può essere qualsiasi cosa, è un peccato rinunciarvi, quindi io vi lascio con questo monito, scattate in RAW, al massimo scattate in RAW più JPEG, provate a immettere questi parametri, provate a scaricare e installare questo preset, provate a modificarlo, non arrendetevi, la 5D tira fuori dei file meravigliosi, ma dobbiamo essere noi a tirarli fuori e a svilupparli, perché la 5D è una macchina meravigliosa, ma è solamente una macchina e se non siamo noi a metterci l'anima, lei da sola non ce la fa. Amici è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti!